Nonostante gli attacchi ideologici e mediatici che propongono dei modelli di unione incompatibili con la fede cristiana, la Chiesa in Togo faccia il possibile per sostenere le famiglie. E' l'esortazione contenuta nel messaggio che Papa Francesco ha consegnato ai Vescovi del Togo ricevuti in occasione della loro visita ad limina apostolorum. Nel testo il Pontefice incoraggia poi il dialogo tra le differenti religioni, la collaborazione con le autorità governative per il bene della società senza tuttavia entrare direttamente nel dibattito così come pure la formazione dei giovani preti affinché possano lottare contro l'ambizione, il carrierismo, la gelosia, la mondanità e la seduzione del denaro.